Questa è una pianta di fagiolo azuchi in un campo di due ettari che è molto bella. Peccato che come vedete a causa delle piogge ripetute della prima settimana, primi dieci giorni di giugno, questo campo sia completamente ricoperto da infestanti. Qui vedete ci sono le file di fagioli perché è stato tutto seminato, sono eraminati anche abbastanza bene perché comunque il fagiolo azuchi è lento a germinare, lento a crescere, ha poco vigore in partenza, poi dopodiché esplode. Purtroppo le piogge hanno impedito di fare quelle 3-4 sarchiature perché il terreno è rallentato, era quasi fangoso e quindi questo campo di due ettari adesso a giorni purtroppo sarà voltato sotto e farà da sovescio. Infatti sto aspettando che si avvicini sempre il più possibile alla fase di fioritura che è la fase in cui praticamente il fagiolo fissa più azoto nel terreno. Queste sono piante rimaste piccole perché ovviamente con tanta erba, però le file ci sono tutte e quindi insieme alla massa vegetale delle infestanti faranno da concimazione per la coltura del prossimo anno.